Ci troviamo a San Giorgio nel capannone del costruttore carnevale di Arco andiamo a scoprire adesso quali saranno i carri di questa edizione del carnevale C'è un uomo già che sta lavorando là, lo vedo andiamo a scoprire di chi si tratta, è mascherato Ciao, pensiero con la maschera di non essere riconosciuto però quando entri dentro qua, ormai Siamo qua appunto nel capannone, vorremmo sapere, visto che abbiamo visto ormai che i carri gli è ultimai vorremmo sapere un po' di spiegazioni su questi carri, insomma, magari partiamo da questi carri che abbiamo davanti L'alice, diciamo, le carte, i giochi, ancora un carro tradizionale ricordando ancora la fiaba dell'alice Questa invece, questo un po' particolare, è il carro che ci ha impegnato di più questo qua abbiamo iniziato ancora a maggio dell'anno scorso è il Nettuno, il dio del mare con i vari pesci, le conchiglie, i cavallucci marini Sì, questo è un po' più che il circo, è un po' uno zoo, lo zoo sul itinerante ecco qua l'elefante, qua abbiamo invece gli altri animali Questo invece è ormai il tradizionale Peppa Pig Dopo qua, mi sembra, questo qua dovrebbe essere il draghetto Non so come si chiama Ecco, questo qua invece è il carro che è stato costruito dal gruppo dei giovani dell'oratorio di Arco Sì, questi sono i Minions, questi qua gialli Bravissimo, continuo a te perché allora riesci a indovinarli No, insomma, sei te che devi spiegarlo Ho capito, però questo qua l'han costruito tutto loro all'oratorio Adesso in questi giorni qua l'han portato qua anche per alzarlo un po' Perché all'oratorio non hanno il posto per terminarlo L'ultimo è il Calypso, la barca che sono già due anni che lo utilizziamo Anche se quest'anno l'abbiamo modificata completamente Cambiando le vele, usando anche Johnny Depp Con Jack Sparrow Ecco, questi in pratica sono i sei carri che domenica sfileranno Penso che le proposte fatte sono abbastanza buone Insomma, è chiaro che nelle costruzioni noi dobbiamo tenere sempre conto Perché sui carri salgono i bambini E quindi ecco perché vedi spesso vuoto dentro Quindi da fermo magari non dicono molto Però il carro, l'effetto giusto è quando è pieno di gente Col programma si parte sabato, giusto? Sì, allora partiamo sabato pomeriggio alle ore 14 con Marcel Sefi Junior Ecco, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni ieri Abbiamo una decina di squadre Anche perché più di dieci si sarebbero stati di problemi anche organizzativi Comunque nel pomeriggio di sabato Anche con Scatena Team Un percorso ad ostacoli per minibike E oltre all'intrattenimento Alibaba Un gruppo che fa animazione, che fa trucca bimbi Palloncini e cose di questo genere La domenica, sempre con partenza Tempo permettendo Le 14, se poi il tempo è bello Anche qualche dieci minuti dopo La sfilata dei Sei Cari E all'interno abbiamo uno dei più grossi gruppi medievali a livello italiano Il Teatro del Rammino di Ascoli Una decina con costumi medievali sui trampoli e tamburi Sempre un altro gruppo di tamburi a terra Una banda, i bandarossi che vengono da Udine E più davanti alla nave mettiamo sempre un gruppo di trampolieri Un gruppo di Bergamo vestiti da pirati Più il teatro per caso Sono sempre quattro persone sui trampoli Per la settimana prossima Ci aggiorneremo Lasciami respirare un attimino Ci rivediamo magari verso mercoledì Che possiamo darvi anche i nomi Ad esempio dei partecipanti all'Arco Rila di venerdì Grazie a tutti